Appaltare al più presto la messa in sicurezza del traforo del Gran Sasso e acquisire la copertura finanziaria totale dell'intervento che ammonta a 180 milioni di euro. La spinta a dare impulso decisivo all'opera è arrivata dal sottosegretario alla presidenza della regione Abruzzo, Umberto D'Annuntis, che ieri ha guidato la delegazione di sindaci che ha incontrato a Roma i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture, dell'ANAS e i due commissari al lavoro per la messa in sicurezza dell'acquifero e delle autostrade. Rassicurazioni sono arrivate dalla struttura del commissario Corrado Gisonni, che è pronta per procedere con l'appalto integrato dei lavori relativi alla riserva d'acqua custodita sotto la montagna. Sul piano finanziario il consulente del Ministro Matteo Salvini, Davide Bordoni, e il direttore generale del MIT, Felice Morisco, hanno confermato l'impegno alla copertura dei residui 60 milioni per l'acquifero del Gran Sasso, oltre alla disponibilità di 3 miliardi di euro per la messa in sicurezza delle autostrade. Punto sul quale la struttura del commissario Marco Corsini ha riferito che si stanno privilegiando gli interventi di messa in sicurezza in invarianza di tracciato, in attesa di definire quale sarà la scelta progettuale, e cioè se prevedere un tracciato diverso o mantenere quello attuale. C'è stata condivisione sul metodo di lavoro e nel prossimo incontro, che si terrà a luglio, ha commentato da Nuntis, verranno condivisi con il tavolo i progetti delle due strutture commissariali e presentate ipotesi di riduzione delle tariffe.